La chiusura dell'ospedale periferico non è prevista, sono previste dei trasferimenti di reparti nella programmazione dell'assessorato alla sanità. Il dato economico è che ogni sei mesi ci vengono tolti dei soldi per la sanità e quindi noi dobbiamo riuscire a conciliare i tagli con la cura e l'assistenza e i processi di riorganizzazione molto rapidi perché anche attraverso la riorganizzazione si può mantenere un numero di prestazioni adeguato rispetto al quadro epidemiologico. Il governo ha detto che ci sono in Liguria prevalentemente o quasi esclusivamente su Genova e Savona 800 posti letti ospedalieri in più. È chiaro che mantenere entro dicembre il Consiglio regionale deve deliberare, se no scatta il commissariamento e quindi è chiaro che sono tutti interessati gli attuali presidi che non vengono chiusi ma sono interessati a una riduzione o a una trasformazione di posti letto. Questo è un compito difficile prima sul piano della pianificazione e quindi poi sui saldi. Se noi non teniamo il passo per legge aumentano l'IRPEF e l'IRAP, già aumentate sensibilmente l'IRPEF dallo Stato per coprire i costi della sanità. Aumentare l'IRAP vuol dire far male alle aziende, colpire le famiglie con l'IRPEF ci risulta molto complicato, per cui non è semplice e credo che legittimamente i comitati, i cittadini debbano partecipare ma poi inevitabilmente il Consiglio regionale dovrà prendere le determinazioni necessarie.